Il doppio turno romano è stato molto impegnativo e duro perché abbiamo affrontato due squadre molto ben mensa in campo e anche molto preparate dal punto di vista atletico. Sabato contro l'HC Roma purtroppo siamo andati sotto di tre reti già dal primo tempo per cui nella seconda frazione è stato molto difficile poter recuperare. Però sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di voler recuperare la partita e hanno avuto un'ottima reazione. Domenica invece siamo stati bravissimi a portarci noi in vantaggio di tre reti già dal primo tempo e nella seconda frazione invece abbiamo subito un po' il ritorno della Tevere. Torniamo a casa con tre punti e comunque la soddisfazione di aver espresso un buon gioco e di essere comunque sempre ancora nella parte alta della classifica.